90 anni e non sentirli, a Cave la Sagra della Castagna spegne quest'anno 90 candeline, la sagra più antica dei Monti Prevestini, ma dall'animo giovane, proprio perché è molto sentita dai ragazzi dell'uovo. I prossimi 25, 26 e 27 ottobre le cantine del centro storico diventano delle vere e proprie cucine, dove gustare piatti della tradizione e specialità a base di castagne. Musica, spettacoli, antiche tradizioni si mescolano alla contagiosa vivacità di un popolo accogliente e operoso. Vi aspettiamo 25, 26 e 27 ottobre, novantesima Sagra della Castagna, evento straordinario, un numero importante. Quest'anno c'è una buona raccolta, credo che ci sia un impegno da parte di tutti, da parte dell'amministrazione, da parte della Prologo, che in qualche modo credono a questo nostro prodotto. Vi aspettiamo tutti numerosi qui a Cave, 25, 26 e 27 ottobre. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS